Nessuna notizia, per cui noi per ora stiamo lavorando sulla base della normativa attuale, non ho idea se ci sia una richiesta da parte delle categorie, delle associazioni, non ho idea veramente. Al momento non ci sono notizie in questo senso. Ma come sta andando? C'è stata un'accelerazione? Sì, allora sta crescendo, chiaramente noi abbiamo la idea, perché questi sono i segnali che ci arrivano e aspettino tutti la conversione del decreto, che ancora non è approdato in gazzetta ufficiale. Sta crescendo, ma credo che l'accelerazione necessariamente avvenga solo dopo la pubblicazione del decreto.